A Mazzarrone né con il movimento dei forconi né con forza d'urto, lavoratori ed operatori economici dei vari settori produttivi del paese e dell'uva da tavola esternano così i loro disappunti contro la crisi economica siciliana dichiarando di manifestare come cittadini di Mazzarrone. Per queste motivazioni hanno infatti mantenuto un presidio permanente all'ingresso del paese con camion e mezzi agricoli. Non ce la facciamo più. Mazzarrone essendo una cittadina che produce l'uva da tavola con questi costi che si sono venuti a creare negli ultimi anni stiamo andando sempre indietro nonostante siamo una comunità che diamo lavoro a 5-6 comuni qua vicini. Stiamo facendo questa protesta per la prima volta qua a Mazzarrone perché siamo arrivati con le spalle a terra. Parlo a nome di tutti i negozianti, gli esercizi commerciali che siamo legati come un filo conduttore con l'uva da tavola perché se loro giustamente non ce la fanno con le spese, noi commercianti, noi negozianti, per noi non c'è solamente nulla. Da una campagna da una cittadina che tutti ci invidiano, però siamo arrivati al terzo mondo. La crisi economica a Mazzarrone penetra e si avverte più rispetto agli anni passati perché i costi di produzione sono pari o di poco maggiori rispetto ai guadagni perché Mazzarrone dà lavoro alla gente di almeno sei paesi della zona e che molte aziende stanno licenziando perché non producono più reddito. Che qua a Mazzarrone siamo tutte persone che produciamo reddito vero. Reddito vero, non siamo come la grande finanza, come la borsa che sale e scende e rubano dalla mattina alla sera. Qua produciamo reddito, diamo lavoro. Dobbiamo abbattere questi costi di esercizio. iniziamo, ripeto a dire, dal gasolio, i contributi unificati, l'energia elettrica e poi si ci mette anche la SERET, l'Equitalia, i verbali. Siamo persone che paghiamo le tasse e le tasse le vogliamo pagare. A Roma ci possiamo anche andare. Intanto siamo qua a Mazzarrone a protestare.